Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video E ci siamo ritornati di nuovo qui su Rainbow Six Singe, guardate qua finalmente ragazzi La nuova mappa La terza volta che mi capita La terza volta, però la seconda volta E' stato per un round Che alla fine manco partecipato E' una partita libera Allora signori, qua abbiamo il nostro Jackal Mamma mia Non la conosco sta macca Sta macca Sta mappa Oh my god Scendiamo raga, prima che mi uccidano Con due punti vita E Qua è finita Raga è classificata eh Vediamo un poco Sento i passi raga Ma non riesco a individuare Se sopra o sotto Ma poi vado sopra nel dubbio raga Guarda che kill che ho fatto a caviera raga Mentre ero distretto a osservare un po' la mappa Eh mi ha preso Little big Montana Eh raga mi ha visto Cioè Minchia stava di qua Io guardo da Come ho fatto? Non vedi? Ah mi ha visto giusto Ja però Ma dove potevate fare qualcosa Raga mi sa che è persa sta partita Cioè ritorniamo argento Ovviamente Mannaggia Aspettate Che sto drone Oh zio E te le va Mamma mia Capistolina Lasciamo stare va Allora Qua non abbiamo rinforzato Perfetto Oh caviera Sei obbligata ad andartene proprio Ok Perfetto Allora Raga non conosco minimamente questo posto Bravi raga Eh bravi raga Ma hanno abbandonato Dove? Eh dai mamma mia Quante volte Raga state attenti però Ah questa bandit Ok Raga dove stanno Ah Eh che ne sapevi? Ok Ok Bravi raga bravi Dove stava? Dall'altra parte Babbo Ma l'hai presa a casa Assolutamente Va bene Va bene Signore Pronto Vinto Ho fatto una bella kill Dai Con pulso Ma come fai a non morire? Dai raga oh Zio sta lì Dai mi ha presa a me Ma stanno tre di loro Sempre sto scemo Guardate oh Abbiamo vinto Però che cacchio Ma perché prendi a me? Cioè io non lo so Tre di loro Avete visto che è morto questo? Mandateci Tutti quanti addosso a lui Cioè aspettate che uccida me Qua mica sta un drone No eh Però purtroppo devo rimanere qua Beh però non mi piace Allora io potrei fare No Babbo Vuole riparare raga Ripariamo Eh zio come ce la giochiamo che Questa partita è persa Mamma mia Come è morto quello Eh raga No lo volevo uccidere col coltello Raga ma io come cacchio facevo là eh Cioè volevo salvare il cavera Però va a finire che la curavo E venivano quelli Come mi ha fatto? Mi ha visto Ok raga ci siamo Allora Fatemi vedere un poco qua Dove sono le telecamere Se no Allora Eh vabbò Ce l'hanno fatto fuori Ah ok sta lì E poi basta Vabbè Allora Raga ovviamente Potevamo fare di meglio Oh Sta fragan su Raga Raga A casa Sono morto C'è un sacco C'è un sacco Futterla L'avete ucciso Almeno Sì Questo qua si è bloccato qua Non ho capito Ok Dai Mamma mia Porca vacca Io l'avevo vista Per questo Avevo sparato Però mi sembrava Come si dice Un'illusione Qualcosa Che cacchio ne so Io raga Questo qua Sono ancora qui Oh zio però Mira eh Quando Mi fa così Zio T'ha visto Eh dai Vattila a nascondere Sto drone Non lo pensare Vai a vedere Aiutare la tua squadra Mica Se fai sta kill Sei un mostro Eh D'addirittura Bravi Bravi Basta Basta Va bene così Raga però ho fatto 5 kg Ho fatto tante morti Però Vabbè No Voglio però Non voglio restare così Minchia però Quante telecamere Ci sono fuori Per il momento Ultimo nemico rimasto Preparazione C4 Se rimani in questa zona Il nemico di solità Li hanno scoperto Torna indietro Oh Morto Zio Raga 4 a 2 Babbo Vabbè raga La prima volta Vi faccio la mappa Insieme a voi Signori Spero che questo video Vi sia piaciuto Lasciate un bel like Commentate Condividete Iscrivetevi Per essere sempre Ci vediamo I prossimi video Ci vediamo A un prossimo video Bella Come cacchio L'ho detto Veloce Ciao ciao